e bentornati a vera mattina adesso apriamo un capitolo a cui noi teniamo molto perché parliamo della condizione autistica lo facciamo con chi con un'esperta no con una persona che conosce direttamente l'autismo no però con una osteopata proprio così che ha scritto un libro sull'autismo perché ha avuto sicuramente delle esperienze nella sua attività professionale ma poi piano piano si è interessata sempre di più e questo mondo lo ha sentito in qualche maniera sua ha voluto condividere ecco il suo pensiero anche per come dire avvicinare tutte quelle persone dar loro voce a quelle persone che continuano a restare in silenzio perché di autismo bisogna assolutamente parlare allora io saluto le do un caloroso benvenuto a paola giosuè buongiorno grazie per essere con noi grazie grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori come è partita questa idea ecco come è partito tutto cerchiamo di spiegare un po qual è il tuo percorso paola certamente allora è stato non tanto un qualcosa di idea di razionale è venuto di getto e ricordo perfettamente le date di quello che mi è capitato erano i primi di dicembre del 2020 quindi eravamo tutti in quella condizione diciamo di vita diversa un po isolati io uscivo personalmente da un periodo di isolamento perché eravamo stati in casa tutti positivi al covid però questo poi aveva ripreso la sua la sua quotidianità è stata dura affrontare il virus? sicuramente è stata intensa diciamo così e ci è voluta molta concentrazione molto equilibrio sicuramente il mio in particolare perché adesso ecco spendo proprio due paroline per dare anche un po' di ottimismo esattamente ho visto prima ho sentito prima e perché questo ci dà la dimensione anche per entrare un pochino nel discorso del libro ho pensato quello che è capitato in casa mia è stato impegnativo è stato di c'è stato bisogno di collaborazione da parte di tutti i componenti della mia famiglia ma per fortuna siamo tutte persone per così dire appartenenti a una categoria di neurotipici quindi persone che si sono adattate anche a quella a quella criticità e in quei momenti mi sono tanto interrogata perché comunque mi capita di avere anche contatti al di fuori della mia professione con con famiglie all'interno delle quali vive una persona neurotipica quindi una persona che ha dei bisogni anche ambientali piuttosto che che fisici diversi rispetto a quelli che che potevo quantizzare in casa mia e detto questo quindi probabilmente senza senza una grossa razionalità come le dicevo ma è stato un crescendo di emozioni che mi hanno poi condotto a dire ma in fondo io seguo tante tante persone individualmente famiglie mi occupo anche della formazione degli studenti che che si preparano a svolgere quello che secondo me riduttivamente viene chiamato il mestiere dell'osteopata e quindi i quali hanno piacere di condividere con chi insegna ma anche chi ha una quantitativa di esperienze numeriche come me di condividere informazioni e quindi dico ma perché non provo a scriverlo io questa cosa o qualcosa che mi è testimoniare quella che è la mia operazione o quantomeno il mio operato nei confronti di una persona neurotipica tra le persone neurotipiche numericamente più più frequenti sono gli autistici però l'ho voluto ricacciare un pochino questo questo pensiero però ogni condizione che mi verso cui andavo incontro in quei giorni mi portava sempre a dire paola devi scrivere paola devi scrivere ho iniziato a scrivere le prime parole era il 6 di dicembre 2020 ed è stato veramente bellissimo perché perché io non sono una scrittrice mi è sempre piaciuta la scrittura ma non mi ero mai esposta in questa però permettimi di dire che te la cavi molto bene perché vi assicuro che è facile leggere questo questo libro anche per lo stile che hai che hai adottato riesci a metterti in contatto immediatamente con con il lettore e ad avvicinarlo anche ad un tema sicuramente molto delicato che però tu affronti non con superficialità ma con una semplicità di linguaggio che ci pone come dire in appunto in contatto con con te che sei la scrittrice di questo di questo progetto editoriale e rende un tema anche spinoso interessante spinoso perché perché diciamoci la verità chi conosce direttamente l'autismo può anche storcere il naso di fronte a chi tenta di affrontare il tema e non lo vive direttamente però io credo fermamente che dare un contributo in tal senso sia sia importante perché poi l'autismo deve essere conosciuto da tutti non solo da chi lo affronta tutti tutti i giorni perché ognuno di noi può trovarsi in una situazione particolare nella vita e quindi anche abbattere un po' il pregiudizio capirne di più perché poi l'autismo è una condizione come ce ne sono tante altre no? Prima parlavi appunto di vari tipi di situazioni quindi disturbi del neurosviluppo in età evolutiva chiaramente quella dell'autismo è una macro categoria anzi ci sono anche le altre condizioni di neurosviluppo atipico che hanno comunque mascheratamente o comunque delle forme di autismo like comunque indipendentemente da questo sposo benissimo quello che dici il fatto che io sia riuscita nonostante non fossi una scrittrice a trasmettere in maniera molto vera molto concreta e anche fruibile quello che ho scritto cercando anche di non entrare in una banalità piuttosto che di dare dei giudizi che non fossero supportati anche dalla letteratura scientifica il fatto che ci sia riuscita è perché sinceramente ho testimoniato qualcosa di vero che che vivo quotidianamente quindi non è stato difficile perché non ho dovuto inventare niente è stato veramente omettere per iscritto qualcosa che che vivo quindi questo testo non è un testo scientifico è un atto creativo io lo definisco un atto creativo bravissima un atto creativo tanto che tu provi a metterti nei panni come si legge anche sul retro della copertina a metterti nei panni di chi percepisce il mondo in modo bizzarro e questa secondo te è la vera è la vera crescita però in che senso cioè quindi ti metti nei panni di chi appunto ha una visione del mondo particolare perché è in quella condizione è così sì non lo so perché me lo sono chiesto anche nel libro perché questa cosa mi risulta anche piuttosto facile perché e mi sono interrogata nel dire ma come dicevi prima ma chi sono io per scrivere di queste cose io non sono un'autistica e quindi non posso far altro che che immaginare come viva il mondo un autistico come lo senta non sono una mamma speciale non sono una scienziata sono però un osteopata e l'osteopata fa qualcosa di più rispetto a tutti quelli che si occupano si occupano di queste condizioni mette le mani addosso al corpo di chi vive una sensorialità distorta e devo dire che se se lo si fa sintonizzandosi con quel modo di sentire il mondo di percepire gli odori i rumori piuttosto che le luci l'autistico si affida e a quel punto non c'è più finzione ma e a quel punto non c'è più l'autismo ma c'è la persona quindi c'è Michele c'è Leonardo c'è Sara c'è Francesco e quindi diventa una relazione in cui la mia presenza è quella di essere una terapeuta e quindi trasformare anche il corpo in un certo senso dopo il trattamento però è veramente affascinante perché si esce da questa relazione sicuramente noi stessi trasformati senti senz'altro un'operazione sembra facile no ma non lo è probabilmente bisogna avere anche una certa sensibilità una certa una certa empatia tu che cosa hai capito della condizione autistica e che cosa cerchi di trasmettere al lettore con questo libro allora è una domanda impegnativa perché capire è forse un verbo piuttosto presuntuoso perché perché io quello che ho sono riuscita a trasmettere a trasmettere a testimoniare è quello che è il frutto di tanta formazione sicuramente teorica perché perché chiaramente ho dovuto e continuo a studiare perché mi sono imposta che questo libro uscisse quanto prima perché è pieno di letteratura anche estremamente attuale e già appena finito di scrivere si è rinnovata però debbo dire grazie e sicuramente quello agli autistici e alle loro famiglie perché quello che mi viene da loro quello che vivo anche al di fuori anche dietro le quinte cioè non solo sul mio lettino il mio ambulatorio ma le testimonianze che mi fanno le criticità che vivono all'interno delle loro mura domestiche i momenti in cui me le hanno aperte per cercare di aiutarli assisterli nel deserto che regna nelle loro case e questo sicuramente è quello che è il massimo apprendimento perché non si legge sui libri ma lo si percepisce e ripeto mettendo le mani addosso ad un corpo di una persona che vive costantemente in un ambiente che gli è sempre infedele perché eccessivamente rumoroso eccessivamente luminoso comporta in queste persone bambini in particolare uno stato di alert continuo e quindi il poterli supportare e ridare un beneficio al loro corpo è veramente qualcosa da cui si apprende di più di tutti i libri. Pensiamo poi cosa hanno subito in pandemia se ne è parlato molto di questo no? Assolutamente. Perché comunque luoghi chiusi ristretti costituiscono una condizione per gli autistici critica, può diventare davvero critica. E la pandemia è stata la punta dell'iceberg perché quello che mi rendo conto e adesso posso raccontare un episodio che mi è capitato proprio domenica scorsa e mi ha fatto molto interrogare su quanta responsabilità io mi sia data personalmente e la dia anche a chi mi dà fiducia insomma perché apro messenger e trovo un messaggio di una signora anziana di della provincia di Salerno di Nocera Inferiore ecco non mi veniva il nome e la quale vedendo su facebook questa pagina dice lei si occupa di autismo io le chiedo assolutamente se può far qualcosa per me io sono una persona anziana con un figlio quasi quarantenne molto difficile sono sola non ho mi hanno chiuso tutte le porte di strutture di accoglienza io sono stanca e non so come risolvere il mio problema e io dico cosa rispondo a questa signora io mi sono arrogata la competenza di dire autistico a chi ma cosa diciamo a queste famiglie la pandemia ripeto ha slatentizzato qualcosa che però forse ha messo lì ancora di più in pausa e stand by allora dico che bisogna gridare autistico a chi non dire ma sì forse bisogna accelerare la diagnosi laddove ci fossero dei segni prodromici già in età neonatale perché prima si si fa diagnosi e prima si prendono i provvedimenti perché comunque sia è possibile non dico migliorare perché anche qui potrei essere fraintesa ma affrontare 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 certamente fa paura e certamente bisogna ascoltare bisogna supportare ma come non solo a parole con i fatti con un progetto condiviso da una serie di professionisti che possano cooperare tutti verso un progetto comune che è quello di prendere in considerazione il fatto che l'autismo oggi dal anzi dal 2013 a oggi ha fatto un salto di qualità perché il dsm quinto l'ha annoverato tra i disturbi del neurosviluppo e quindi un disturbo è diverso da un deficit un deficit se mi manca un braccio mi manca qualcosa un disturbo un disordine può essere riordinato riorganizzato e dato a quel sistema nervoso la possibilità di esprimere i suoi talenti di poter convivere all'interno di un ambiente se questo viene calibrato ai suoi al suo sentire e capire che quelle che sono le peculiarità dell'autismo cioè la la mancanza o la difficoltà nella socialità ad esempio non è perché l'autistico non abbia piacere di socializzare è perché il modo di socializzare del neurotipico è diverso rispetto a quello dell'autistico quindi nel libro mi sono chiesta ma che cos'è la normalità chi è normale e per così di impatto mi è venuto in mente il ritornello della canzone di lucio dalla dice per essere l'impresa eccezionale da miretta essere normale quindi essere normale rientrare nei canoni della norma di quelle regole imposte dai più è veramente un'impresa eccezionale mi sono anche interrogata non voglio spoilerare il libro però dei degli episodi della mia vita in cui nonostante io sia un forse neurotipica in tante occasioni mi è stato difficile essere normale quindi mi sono messa nei panni c'è un episodio tu racconti se non sbaglio di quando eri molto piccola e dovevi fare questo disegno esattamente era all'elementare era era lo ricordo benissimo forse uno dei primi dei ricordi della prima infanzia più vivi ancora in me e perché probabilmente hanno impattato molto di me perché è stata un'impresa eccezionale erano i primi giorni della prima elementare dovevo fare fare una pagina di i di isola ed è stato difficilissimo il pomeriggio l'abbiamo trascorso mamma ed io vicine lei io scrivevo a matita e lei cancellava perché queste i mi venivano storte mi venivano più alte più basse e poi la cosa difficilissima io non sono una disegnatrice a tutt'oggi disegnare un'isola per una bambina a quell'epoca era il 1975 fatto il conto non c'era internet io non ero mai andata in un'isola e quindi che come potevo rappresentare un'isola non sapevo disegnare e mi era astratto il concetto e siamo riuscite a portare a termine l'impresa è ancora narrata in famiglia mia come quasi una sorta di biglietto da visita che mi porto dietro curriculum vite mamma dice se ci si impegna si fa come ha fatto paola se quel giorno io non gli avessi cancellato lei e lei non fosse stata lì a farle probabilmente non sarebbe arrivata qua io invece con il senno del poi mi dico ma è normale per una bambina di sei anni i primi giorni della prima elementare non saper scrivere o non saper disegnare quindi la competenza che io ho raggiunto sicuramente non è stata solo legata a quel momento quel momento è rimasto nell'immaginario tu hai avuto la tua mamma vicina e quindi hai avuto la famiglia in questo caso non so come a scuola che tipo di trattamento hai ricevuto però parlando magari di anche di dislessia ci sono tanti bambini oggi forse le cose sono sicuramente cambiate c'è una maggiore attenzione però chissà quante persone quanti bambini dell'epoca hanno hanno subito anche una forma di discriminazione no o comunque non sono stati seguiti o capiti veramente subendo poi dei danni permanenti in realtà perché questi sono episodi tu stessa lo racconti no per raccontarlo oggi vuol dire che ti è davvero entrata dentro questa cosa no ti ha segnata in qualche modo quindi spero che le cose siano cambiate come come credo però è importante no seguire e non omologare poi i livelli di formazione perché ognuno ha il proprio ognuno ai propri tempi e non si è assolutamente tutti uguali anzi meglio così perché è anche motivo di crescita sia tra i ragazzini stessi che per gli adulti sicuramente una risorsa potrebbe essere considerabile ma mi ha segnata talmente tanto ad oggi e forse è stato anche inconsapevolmente uno dei motivi per cui io mi sono avvicinata così a queste tematiche perché come osteopata perché ho virato verso questi questi pazienti questa formazione probabilmente perché quell'episodio o come tanti episodi per me sono stati molto difficili ad oggi mi dico che forse io ho una forma di probabilmente di disturbo dell'apprendimento a bassa penetranza e se mi fosse lo dico anche nel libro dato un po più di tempo messa in una condizione più di comprendere quali fossero le mie criticità probabilmente non ero ben lateralizzata e quindi avrei fatto meno fatica e avrei raggiunto delle le stesse competenze con più serenità e questo aspetto mi ha talmente segnata che quando ho voluto pubblicare il libro ho scelto la casa editrice anche in virtù del fatto che mi ha proposto su mia richiesta di utilizzare un font adatto per dislessici questo è un messaggio che voglio dare perché perché ritengo che ad oggi le cose sono sicuramente stefania molto cambiate perché la diagnosi si fa si fa talmente tanto che che a volte ci si interroga pure se siano diagnosi sempre certe quelle che che si che si mettono addosso ai bambini che cominciano ad avere delle difficoltà ad oggi però io vorrei capire vorrei no capire sottolineare e urlare anche anche di nuovo su questo tema che la diagnosi non deve essere il punto di arrivo ma il punto di partenza perché laddove ci sia una difficoltà una differenza una una deviazione di quelli che sono le regole e gli standard va compreso persona per persona qual è la condizione di atipia che porta quel tipo di difficoltà di espressività che la punta dell'iceberg quindi sicuramente la la scuola le istituzioni sono molto presenti la formazione per gli insegnanti è alta mi è capitato anche di seguire i corsi fatti per per gli insegnanti di sostegno debbo dire che negli anni sono di alta qualità però il problema è che non si può derogare solo alla scuola o solo al centro di riabilitazione la possibilità di riordinare qualcosa che è che che fuori da dai canoni delle regole ma bisogna che la presa in carico sia h24 sette giorni su sette quindi ci sia un continuum con la famiglia ci sia un continuum con con i centri di accoglienza con con le associazioni quindi si faccia un progetto comune che però si basi sulla scientificità e sull'umanità tu sei in contatto con tante associazioni che raccolgono famiglie che vivono queste situazioni e io credo che il merito vada dato proprio a queste famiglie che ecco si fanno conoscere e fanno conoscere queste queste condizioni no tu per esempio dedichi un capitolo al al concetto di chiusura ecco su questo le cose sono davvero molto cambiate perché un tempo purtroppo le famiglie si chiudevano no e quindi quasi a volte anche a nascondere quello che quello che vivevano oggi invece si esce fuori c'è molta più comunicazione molta più condivisione e quindi vorrei rendere merito a tutte queste famiglie che hanno il coraggio e la forza di metterci la faccia perché attraverso la propria esperienza queste informazioni possano arrivare più lontano possibile e quindi anche strigliare le istituzioni no quindi questo credo che sia molto importante Paola assolutamente non solo le famiglie e i genitori sono talmente forti e capaci e io veramente mi sento così piccola nei loro confronti e il mio contributo è minimo rispetto a quello che è loro spendersi non solo nelle mura domestiche ma molto spesso molti genitori trasformano le loro capacità e i loro impegni i loro talenti nel formare associazioni nel creare opportunità non solo per i loro figli ma anche per gli altri e si chiamavoli così consorsiano in una modalità di mutua assistenza tra di loro si consigliano eccetera eccetera e la mia fortuna è quella di averne conosciuti tanti di poter prestare insieme ai miei colleghi osteopati il nostro nostro supporto tecnico terapeutico ma anche ma anche ripeto io personalmente anche umano perché molte famiglie aprono le loro porte a me e non posso far altro che apprendere attraverso loro mi capita spesso di venire qui nel vostro territorio perché c'è un'associazione che fa la differenza ed è la michele per tutti la quale è stata anche il nostro nostro gancio cristiana la devo ringraziare pubblicamente per questo perché appunto è talmente sensibile a a tutte le forme di diversità che che non non lascia a scorrere nulla e ogni occasione per lei e per lei prendo a modello come mamma ma come tutte le famiglie non perdono occasione per divulgare e per far sì che che si faccia il telefono non senza fili un telefono con i fili che possa ampliare ancora di più e far sentire la presenza però le istituzioni non si deve non possono sostituire no le scusate le associazioni non possono sostituirsi alle istituzioni e i genitori non possono non essere supportati dai professionisti e viceversa grazie grazie davvero paola per averci aperto questa finestra su un mondo che bisogna conoscere di più e quindi torneremo sicuramente a parlarne grazie ancora paola giusoe noi andiamo in pubblicità e tra poco invece vi racconteremo una nuova storia quindi rimanete con noi vi aspettiamo grazie a tutti